Prima di parlare della partita un messaggio importante. Giuseppe Murigno, resisti, non mollare, rinnoviamo subito questo contratto, mi raccomando, sei il miglior allenatore del mondo. Firma per la Roma, a vita se è possibile. Grazie. Ciao a tutti da Vettopio. Prima di parlare del derby di ieri di Coppa Italia, voglio darvi un paio di numeri che secondo me sono importantissimi. Da quando sulla panchina della Lazio c'è Maurizio Sarri e sulla panchina della Roma Giuseppe Murigno, ci sono stati sei derby. Cinque di campionato e quello di ieri di Coppa Italia. In questi sei derby la Roma ha vinto solo uno, il secondo, quello dove segnò dopo pochi minuti. Ne ha paleggiato un altro, quello d'andata di campionato, gli altri quattro li ha tutti persi. Già questo vi fa capire una cosa. C'è un altro dato secondo me incredibile. Negli ultimi quattro derby giocati, la Roma ha fatto zero gol. Zero gol negli ultimi quattro derby giocati. Non solo negli ultimi quattro derby giocati, la Roma ha fatto tre tiri nello specchio. Tre. Questo per farvi capire l'egemonia, il dominio se volete, della Lazio nel derby contro la Roma. Onestamente non mi ricordo un periodo così lungo in cui la Roma nei derby non è riuscita a segnare, non è riuscita a tirare in porta, eccetera. Questo è figlio un po' della partita di ieri. La Lazio con tutti i suoi limiti, con le assenze, con una squadra che non sta giocando benissimo, ieri ha provato a giocare a calcio. Dall'altra parte abbiamo visto la Roma al completo, perché c'era Lukaku, c'era Dybala, c'erano tutti, non giocare a calcio, non provarci nemmeno. La Roma ha fatto i primi cinque minuti dove ha giocato a calcio e ha provato a mettere in difficoltà la Lazio. Appena la Lazio ha leggermente preso le coordinate, la Roma non ha più giocato a calcio. Non ha più giocato a calcio. Attenzione, questo non significa che la Lazio ha fatto un partitone o, io ne so, ha fatto calcio champagne. No, però la Lazio ha provato a giocare, la Roma no. Poi è vero, nel primo tempo praticamente non succede niente, siamo onesti. La Lazio fa un... C'è la grande chance, secondo me, quella di Lazzari che entra centralmente, tira, secondo me, se non la devi al difensore della Roma, è gol. Però Lazzari, la chance di Castellanos è bassa, al primo tempo veramente soporifero. Però la Lazio almeno due chance la fatte, la Roma zero. Nel secondo tempo la Lazio fa molto di più. C'è il rigore clamoroso, oggi ho letto un giornalista che diceva che non c'era il rigore della Lazio. Veramente siete fantastici. Comunque, la Lazio nel secondo tempo ha creato almeno quattro palle e gol importanti. E io sono d'accordo con Sarri che dice che è una bestemmia che la Lazio non abbia raddoppiato. Perché dopo il gol hai avuto quattro occasioni clamorose. C'è la scaloppata di Felipe Anderson, il colpo di testa di Vesino, il tiro di Vesino fuori, la grande chance di Pedro che la passa al portiere, solo davanti al portiere. Poi c'è un'altra chance. Insomma, la Lazio ha avuto in dieci minuti quattro occasioni ottime per chiudere la partita. Non ci sei riuscito e là è subentrata la paura. Perché? Bisogna dire un'altra cosa che nessuno sottolinea ovviamente. Ma Lazio ha vinto il derby senza. Mi dico i Savic che è stato ceduto. Luisa Alberto, Ciro Immobile e Provedere. Immaginare di vincere un derby senza soffrire praticamente, senza questi quattro calciatori, è clamoroso. Ieri Murigno piangeva perché è uscito di balla all'intervallo. Sarri che doveva fare? Spararsi che ha giocato il derby senza Luisa Alberto, Ciro Immobile e Provedere? No. Ovviamente se tu dai un'idea di gioco alla tua squadra, manca Luisa Alberto, c'è un'altra alternativa, sa quello che devi fare. Poi attenzione, diciamo una cosa onesta. La Lazio non ha giocato un grande calcio ieri. C'eravamo un centrocampo obiettivamente non di qualità. Cataldi, Vesino, Guendusì. Sono tre giocatori fisici, ma sicuramente non sono dei palleggiatori, per cui non ti potete aspettare calcio spettacolo. Nonostante un centrocampo così fisico, la Lazio ha fatto 6 di rinporta. La Roma 2. E questa è una differenza importante. Secondo me si vede benissimo la mano di Maurizio Sarri come si vede benissimo la mano di José Murigno. Murigno è l'anticalcio, la prova a buttare il risaglio in volta. La Lazio prova a giocarla, con i suoi limiti. Perché, ripeto, ieri la Lazio non ha giocato bene. E' anche vero che giocare bene con un squadro come Udinese e Roma non è facile. Però la Lazio ci ha provato. È entrato Isakset, ha fatto bene. Felipe Anderson, dopo un primo tempo brutto nella ripresa, ha giocato bene. E attenzione, io ho citato Cire Mobili, Luisa Alberto, eccetera. Anche Castellanos è fatto male, è uscito per infortunio Castellanos, mica per certa tecnica. Ecco, la Lazio è in grande emergenza, grande emergenza. Eppure ha giocato meglio della Roma e ha meritato di vincere. Adesso il risultato sta stretto, dice Sarri. Beh, abbiamo avuto quattro chance dopo il gol che dovevamo chiudere. Però tutto sommato ci sta di vincere di misura. La Lazio non ha fatto questo grande partitone. E' anche vero che dall'altra parte la Roma è stata ridicola. Io veramente sono contentissimo che i giornalisti della Roma difendano Mourinho. Perché secondo me è indifendibile. Però se va bene a voi, a noi va benissimo. Attenzione. Altra menzione, il nostro grande dubbio, la nostra grande preoccupazione è fermare Lukaku. Perché Lukaku col fisico, soprattutto con Patrick, poteva metterci in difficoltà. Lukaku non ha combinato niente. Romagnoli è stato fantastico, ma anche Patrick ha fatto un'ottima partita. Un'ottima partita. E attenzione, perché all'interno del derby dobbiamo sempre registrare Marosic che fa un paio di fesserie. Felipe Anderson che nel primo tempo perde un paio di palloni disgraziati. Insomma, la Lazio non ha fatto una partita perfetta. Mastra ha meritato di vincere. Prima di chiudere, una piccola menzione a Mandas. Perché Sarri ha detto che ha fatto una grandissima partita. Io non sono così convinto. Nel primo tempo gli viene fischiato un fallo sull'uscita su Lukaku. Dove, obiettivamente, adesso te li fischiano sempre quei falli. Però, secondo me, è andato un po' leggerito. E poi, nel secondo tempo, fa la parata. Però, secondo me, sbaglia. Mi dicono che il tiro è deviato. Io non l'ho notato. Però non li spingi mai centralmente. Quello è un errore, secondo me. Poi è reattivo, è bravo ad anticipare il Pellegrini e buttarla in angolo. Ma là non benissimo Mandas. Ecco, un altro dato che sottolineo. La Roma non ha fatto gol con la Lazio e era Mandas che faceva l'isordio con la maglia della Lazio. Cioè, questo è un dato incredibile. Io avrei tirato da centrocampo con un portiere del genere. La Roma non ha fatto un tiro in porta. Lukaku non ha fatto un tiro in porta. Di bala invisibile. Per cui, ripeto, senza fare niente di fantastico, la Lazio ha straveritato di vincere il derby. Chiudiamo con una cosa. Perché per il secondo derby consecutivo, i tifosi della Roma dei distinti sud hanno tirato fumogeni in tribuna Devere. Era già successo all'altro derby. Il prefetto, la polizia, perché non si prepararono a queste cose, visto che era già successo? È incredibile. È successo esattamente la stessa cosa che è successo all'ultimo derby. Ma la polizia dormiva. Altra cosa, prima di concludere, se non individuiamo entro le 24 ore quel demente che ha tirato a bottiglietta il giocatore della Roma, è veramente una vergogna. Ci sono 10.000 telecamere allo Stadio Olimpico. Io non posso credere che non può essere individuato questo idiota, perché si tratta di idiota, che va da spado subito, non c'è niente a che fare con la Lazio, quel cretino. Non deve mai più entrare allo stadio. Quello è un episodio deprogevole, imbarazzante, inaccettabile. Va individuato subito, ma non ci voglio credere che non si può individuare chi è questo cretino, e va subito da spado, per sempre. Noi diamo un anno, due anni, sempre, ha tirato la bottiglietta di plastica al calciatore. Non ci dobbiamo neanche pensare, neanche pensare. Sono cose che io non accetto minimamente. Non me ne frega niente se da Lazio, da Roma, è una cosa che non si può tollerare. Non si può tollerare e dimostriamo una povertà di essere capaci, individuiamolo subito e cacciamolo via. Via, via. Grazie a tutti che hanno guardato il video. Noi torneremo più tardi con un altro video. Se vi è piaciuto, per favore mettete mi piace. Grazie. 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 Grazie.